Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi mi ero ripromesso di non fare video per preparare degli episodi speciali che accompagneranno il lancio della next gen, ma ovviamente Nintendo ha ben pensato di stravolgere i miei piani con quello che sembrerebbe essere un autogol clamoroso. Si parla infatti di un possibile ritorno di Samus Aran su Switch, ma non con novità riguardanti Metroid Prime 4 o la remastered della Prime Trilogy. No, a spuntare fuori dal nulla è un altro nome molto più inaspettato, Samus Returns, titolo uscito originariamente per 3DS nel 2017. Prima di approfondire questo rumor e cercare di scoprire se effettivamente possiamo iniziare a sognare ad occhi aperti, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Solitamente quando si tratta di rumor e presunti leak bisogna andarci con i piedi di piombo perché molto spesso si rivelano essere informazioni sbagliate. A volte dei fake creati ad arte, altre delle semplici cantonate prese in buona fede. Nintendo però ultimamente ci ha abituato a degli scivoloni involontari a dir poco clamorosi, come l'autoleak di Kirby Fighters 2 e non è così assurdo aspettarsi degli errori significativi da parte della casa di Kyoto. Proprio per questo l'attenzione della community è elevatissima e gli utenti scandagliano anche la più piccola delle informazioni rilasciata dal colosso giapponese. Qualche ora fa quindi lo youtuber Papaginos ha fatto una scoperta di non poco conto. Sul sito americano di Nintendo è apparsa una pagina relativa a un prodotto per Nintendo Switch. Si tratta di un set di pellicole adesive a tema Super Metroid, per personalizzare la console, i controller e la dock. Niente di imprescindibile o rivoluzionario, anzi se vogliamo dirla tutta le skin sono abbastanza pacchiane, ma la cosa molto interessante è che in una delle immagini dimostrative della console viene mostrata una schermata di gioco specifica che non può non catturare l'attenzione dei fan della serie. Più che di una scena tratta da Super Metroid, disponibile all'interno del catalogo Nintendo Switch Online, ad occupare lo schermo c'è un fotogramma catturato dalla sequenza introduttiva di Samus Returns, gioco uscito nel 2017 esclusivamente per Nintendo 3DS. Che Nintendo abbia veramente anticipato un annuncio così importante lasciandosi sfuggire questo screen? Difficile a dirsi, anche perché si tratta chiaramente di un placeholder photoshopato neanche nel migliore dei modi, ma la scelta potrebbe essere tutt'altro che casuale. In fondo sappiamo per certo che Metroid Prime 4 è ancora lontano e che un eventuale remastered dei primi tre episodi sarà annunciata solo a ridosso dell'uscita del seguito, un po' come accaduto recentemente per No More Heroes. Quindi da tempo si vocifera di un possibile ritorno in due dimensioni della serie di Metroid, una sorta di antipasto in grado di placare la fame degli appassionati in assenza dell'attesissimo Metroid Prime 4. Quella di proporre in versione rimasterizzata un titolo recente come Samus Returns potrebbe essere una mossa tutt'altro che banale, che aprirebbe uno scenario potenzialmente interessante. Nintendo in fondo non si è fatta scrupoli a riproporre come nuovi gran parte dei giochi appartenenti al catalogo di Wii U e il 2021 potrebbe segnare il passaggio verso la libreria del 3DS e della riproposizione di alcuni titoli passati in sordina. Non dimentichiamoci che inoltre Samus Returns è a sua volta un remake espanso del secondo capitolo della serie originariamente uscito su Game Boy, un'operazione molto simile a quanto è stato fatto con Link's Awakening lo scorso anno. Insomma, benché inaspettato, questo ritorno potrebbe avere la sua logica commerciale. E inoltre, lasciatemelo dire, si tratta di uno dei miei giochi preferiti per 3DS e merita assolutamente di essere riscoperto, soprattutto se non si è mai avuto l'occasione di giocare a un classico Metroid in due dimensioni. Quindi Poracci, secondo voi, ci troviamo di fronte a un'altra imperdonabile svista da parte di Nintendo, oppure ci dobbiamo mettere l'anima in pace e continuare ad aspettare in silenzio qualche novità riguardante Metroid Prime 4? Soprattutto, sareste contenti di vedere arrivare su Switch e la libreria del 3DS un po' come è successo con la Wii U? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Samus, Michele Returns, ciao!